Non ci crederai, ma oggi ho visto mettere dell'olio di patatine su una macchina e la cosa più sorprendente è stata vederla camminare. Benvenuto in questo nuovo video. Oggi ti parlerò di canapa come ecocarburante. Partiamo dal principio. Noi abitiamo su questo pianeta meraviglioso che per via delle nostre abitudini e soprattutto per la nostra mancanza di attenzione si sta deteriorando. E quindi è veramente molto importante ascoltare attentamente le soluzioni che ti mostrerò in questo nuovo video. Sono venuto a conoscenza dell'ecocarburante. Conoscendo la pianta di cannabis sappiamo già da tanti anni che è possibile produrre un biocombustibile chiamato bioetanolo. Abbiamo sicuramente bisogno di fare una distinzione tra gli ecocarburanti perché possono esserci dei carburanti prodotti in modi molto più complessi ma anche più efficienti. Ad esempio il bioetanolo di canapa. Questo viene prodotto dall'utilizzo di materiale di scarto della pianta di canapa come ad esempio il canapulo o tutto quello che è la parte legnosa della pianta fermentandola con determinate condizioni spesso devono essere in condizioni anaerobiche quindi senza la presenza di ossigeno. Questo sistema permette di produrre del combustibile naturale addirittura che è possibile adattare anche all'interno di case con l'utilizzo di apposite stufe e camini a bioetanolo. A differenza del classico legno il bioetanolo produce quasi zero sostanze tossiche produce solo della CO2 e andandolo ad applicare all'interno di un soggiorno ad esempio l'unica reazione negativa che può generare è quella di creare un'aria viziata che poi deve essere diciamo depurata con un depuratore ad aria classico o aprendo la finestra e facendo ricambiare l'aria. Ma la cosa principale per cui uno lo sceglie è l'estetica. Non hanno bisogno di una struttura è possibile applicarli anche alla parete perché funzionano in modo molto semplice hanno bisogno di una pietra specifica porosa dove imbagnandola con del bioetanolo è possibile accenderla e mano a mano che lei consuma questo liquido fa luce l'effetto del fuoco il classico ci sono molte persone che piace l'effetto del fuoco anche a me. Un altro aspetto invece più funzionale è utilizzarlo all'interno dei motori a combustione in quanto ci permettono di spostare di effettuare materialmente dei chilometri con la nostra auto senza andare ad inquinare l'ambiente perché come abbiamo già detto in precedenza la tecnica utilizzata con bioetanolo va a produrre degli scarti già presenti in natura come ad esempio la CO2. Un altro ecocombustibile però è quello derivato dagli oli generati dai semi semi vegetali ci sono determinate tipologie di semi ma quelli che noi conosciamo di più sono il seme di canapa il seme di girasole il seme di lino anche questi lavorandoli in maniera veramente semplice è possibile generare dei combustibili 100% naturali è possibile trovarlo nei rifornimenti quelli magari più forniti e la differenza è che il biodiesel che comunemente troviamo è presente in concentrazioni tra il 7 e il 10% e non è puramente composto da oli quindi ricapitolando abbiamo due tecniche per produrre ecocombustibile è una tecnica più raffinata e particolare che è quella dove generiamo bioetanolo l'altra è possibile con il biodiesel generato dalla spremitura di semi vegetali molto oleosi addirittura è possibile utilizzare anche del semplice olio di frittura esausto per alimentare i motori diesel ma attenzione però perché bisogna avere comunque un motore di vecchia generazione avere soprattutto una cilindrata del motore abbastanza forte da permettere di supportare i bassi regimi altrimenti un motore più piccolo rischierebbe di spegnersi di frequente per concludere mi piacerebbe farti viaggiare con me immaginandoci assieme quelle grandi industrie petrolchimiche che ad esempio noi in Sicilia troviamo nelle zone del Siracusano di Augusta piene di tubi con un odore sgradevole bene immaginiamocele come dei centri di trasformazione di eco carburante è possibile serve solo una voglia sociale nostra di fare attenzione a queste soluzioni di unirci di trovare rimedi soluzioni che puoi trovare anche in accompagnamento a questo video su YouTube è avere veramente una visione che ci permette negli anni di fare delle scelte più ecosostenibili più attente al nostro ambiente e soprattutto cercare di evolvere andando a rispettare l'ambiente e soprattutto permettiamo alle generazioni future di poter vivere con la consapevolezza che le generazioni precedenti hanno fatto delle scelte importanti anche per loro ed oggi questo è veramente raro vederlo tocca a noi cambiare tocca semplicemente fare uno switch e iniziare a pensare in modo diverso la canapa come puoi vedere anche in questo video si trova al centro dell'attenzione ci sono veramente tanti migliaia di ettari già in coltivazione per la produzione di biocombustibile in Francia soprattutto ma anche in Italia si stanno sviluppando sempre di più queste tipo di coltivazioni non mi rimane che invitarti a iscriverti al canale mettere mi piace e commentare con il tuo pensiero riguardo a questo macro argomento che possiamo anche sviluppare nei prossimi video ti auguro come sempre con tutto l'amore che posso un buon cambiamento verde ciao 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 ciao